Proprio a ridosso della giornata mondiale dell'acqua, la città di Merano acquista circa il 60% della sua acqua potabile dalla sorgente Frigel in Val Venosta. L'intero progetto di ristrutturazione della conduttura, i cui costi ammontano 16 milioni di euro, comprende i comuni di Merano al 60%, Lagundo e Marlengo al 12%, nonché Cermes e Lana. Abbiamo deciso di finanziare e approvare il progetto proprio in questi termini di 4 milioni come primo lotto per portare le acque dalla sorgente di Castelbello verso Merano. C'è l'approvvigionamento del 60% dell'acqua potabile di Merano, per cui ha un'importanza notevole questo sostegno del finanziamento degli appalti per il rinnovo dell'acquedotto. E sempre in tema di acqua un altro notevole sborso per le casse comunali riguarda invece il Lido di Merano. In collaborazione con la Merano Arena dobbiamo finanziare 4 milioni 800 mila euro per rifare le due vasche del Lido che ha tanta tradizione, è una struttura sportiva importante per la città e questo per subito a conclusione della stagione, subito attivare questi lavori.